Ne è passato di tempo ragazzi, ne è passato di tempo, mi direte voi, vero ed è un botto che non pubblico video su questo canale però è un periodo veramente nel quale tra scuola e impegni vari faccio veramente fatica faccio veramente fatica, oggi qua siamo tornati con il GP di Austin per chi mi chiedesse, uscirà il post GP di Singapore che non ho mai fatto uscire? certo che uscirà, sarà una sorta di post GP particolare perché il GP di Singapore si è corso tipo un mese fa, un mese e mezzo fa e quindi uscirà poi nei prossimi mesi, sarà una sorta di GP nascosto che però uscirà uscirà, non l'ho fatta appunto uscire prima perché tra ripeto scuola, calcio eccetera eccetera, impegni vari non è semplice, non è semplice e da oggi cercherò piano piano anche su questo canale di ritornare non vi garantisco nulla però, non vi fate illusioni, sogni eccetera eccetera oggi parliamo del GP di Austin oggi parliamo del GP di Austin che ha visto la Ferrari secondo me dominare alla fine della gara lo si certifica anche dal risultato, doppietta rossa con le Clerc in prima posizione e Carlos Sainz in seconda e poi vabbè tutti gli altri, tutti gli altri, tutti gli altri chiaramente sotto con Verstappen terzo, Norris quarto, quinto Oscar Piastri, sesto George Russell settimo posto Sergio Perez, ottavo posto Hülkenberg nono posto Lawson, decimo posto Colapinto undicesimo posto Magnussen, dodicesimo per Pierre Gasly tredicesimo posto Alonso, quattordicesimo per Tsunoda quindicesimo Stroll, sedicesimo Albon, diciassettesimo Bottas diciottesimo per Ocon, diciottesimo per Will Joe e ventesimo Hamilton, Sir Lewis Hamilton ad Austin non aveva mai fatto un gran premio del genere non aveva mai disputato un gran premio così possiamo dire che in generale per Hamilton è stato un weekend pressoché nero è stato un weekend pressoché disastroso non tanto il venerdì quanto il sabato e la domenica perché sia nella sprint, sia nel gran premio ma in generale anche sia per la qualifica per il gran premio di Austin, Hamilton davvero ha commesso un mare di errori poi ovvio che la Mercedes era semi-inguidabile in questo weekend poi ne andremo a parlare meglio dopo però forse è stato il weekend peggiore di Hamilton in questo anno in questa stagione di Formula 1 tra l'altro vi dico anche un video vi dirò la mia su Lawson al posto di Richard in Racing Bull e in generale faremo anche un video riguardante un po' il mercato piloti cosa ne penso detto ciò ad Austin nel weekend appunto degli Stati Uniti d'America si è disputata la sprint race cosa che invece non è successo invece a Singapore a Monza eccetera eccetera sappiamo che di sprint race all'anno se ne disputano sei e una di queste si è proprio disputata ad Austin è stato un weekend spettacolare cioè davvero è stato un weekend spettacolare stranamente abbiamo visto una sprint pazzesca forse la sprint più bella di sempre davvero perché è vero nella sprint race è stato Verstappen a triunfare però tra battaglie, sorpassi e colpi di scena nella sprint race abbiamo visto veramente tanto e purtroppo quei 19 giri sono terminati sono terminati la gara ovviamente è stata più bella per noi tifosi ferraristi perché ha vinto Charles Leclerc 1-2 appunto con Carlos Sainz però in generale possiamo dire che il weekend di Austin è stato meraviglioso dall'inizio fino alla fine anche le qualifiche che portavano al Gran Premio sono state veramente interessanti da seguire perché erano tutti vicini e ci sono stati diversi colpi di scena però ora andiamo a parlare del Gran Premio perché se parliamo in modo concreto della sprint se parliamo in modo concreto delle qualifiche questo video viene un monologo questo video viene troppo lungo e non voglio che ciò accada nella gara ci sono stati veramente tanti sorpassi forse uno dei Gran Premi più belli in questa stagione non dico il più bello ma ci siamo vicini ci siamo vicini tra l'altro in questa stagione tantissimi Gran Premi sono stati divertenti da guardare ma non andiamo fuori tema continuando a parlare del Gran Premio innanzitutto in partenza già abbiamo il primo colpo di scena se possiamo chiamarlo così perché Leclerc partiva a quarto era arrivato appunto quarto in qualifica e subito nel primo giro riesce a passare da quarto a primo questo perché? perché Leclerc approfitta se vogliamo della lotta tra Norris e Verstappen e Leclerc appunto approfittandone va in testa al Gran Premio poi Verstappen secondo Sainz terzo e Norris quarto Norris pensate dalla prima è precipitato in quarta posizione sappiamo che in alcuni Gran Premi paradossalmente è meglio partire dalla seconda fila che dalla prima per esempio ad Austin non è ottimale partire dalla pole position perché tutti gli altri dietro ti prendono la scia e quindi può succedere che in curva uno il pole man possa non essere prima questo è il caso di Norris anche lo scorso anno per esempio nel 2023 ad Austin Leclerc partiva primo e nel primo giro è stato sorpassato appunto dai rivali questo proprio perché in alcune piste è meglio paradossalmente partire dietro che davanti mentre per esempio nei circuiti come Singapore partire davanti è fondamentale è tutto un po' dipende da pista a pista dipende veramente da pista a pista detto ciò Leclerc in prima posizione subito dopo il primo giro al terzo giro abbiamo abbiamo un altro colpo in scena Hamilton in ghiaia Hamilton come vi raccontavo prima in questo weekend ne ha sbagliate di tutte c'è da dire che appunto la Mercedes era una delle era veramente difficile da guidare però Hamilton in ghiaia ha comminto un errore che forse poteva evitare probabilmente sì probabilmente sì anche perché è lui che si assume alla fine la colpa e la responsabilità quindi se Feticar danno lo strappo Leclerc diciamo che possiamo dire che Leclerc dal quinto fino al cinquantaseiesimo giro quanti giri erano ha letteralmente dominato perché ogni ogni giro continuava a dare secondi e secondi su Verstappen perché Leclerc è arrivato a concludere a venti secondi di vantaggio su Verstappen chi l'avrebbe mai detto ad aprile a maggio erano tutte cose impronosticabili ma in generale nelle gare vediamo Ferrari prima forza senza dubbio vediamo Leclerc dominate nel passo vediamo un Sainz leggermente meno dominante di Leclerc ma anche lì Sainz con l'undercut supera Verstappen ai box quindi tramite appunto l'undercut buona la strategia Ferrari ma l'avrebbe comunque sorpassato anche senza l'undercut negli ultimi giri nella seconda parte di gara proprio perché la Ferrari ne aveva tanto più delle altre negli ultimi dieci giri abbiamo visto un duello spettacolare tra Max Verstappen e Lando Norris con Max Verstappen che riesce a massimizzare il risultato così come a Singapore finendo terzo finendo davanti a Norris e tra l'altro Verstappen considerando la vittoria nella sprint race considerando il terzo posto qua nella gara più lunga Verstappen ha addirittura allungato su Norris e ora ha 54 punti di vantaggio e credo che ormai le speranze per Norris siano abbastanza basse di vincere il mondiale prima perché ormai mancano solo 5 gare mancano 5 gare punto secondo la Red Bull è più bilanciata la Red Bull va più forte rispetto a settembre agosto e poi anche perché Ferrari potrebbe dare una grande mano a Verstappen le Clerc e Sainz possono agevolare Verstappen e considerano che la Ferrari in Messico sarà probabilmente prima forza considerano che ad Abu Dhabi Ferrari e McLaren saranno molto vicine le uniche piste in cui McLaren può vincere secondo me sono Brasile e Qatar sono Brasile e Qatar per esempio Las Vegas secondo me vedremo una Ferrari migliore e non credo che Norris riuscirà a vincere il titolo piloti secondo me vi faccio la mia previsione Norris arriverà a 35 40 punti da Verstappen non credo sarà un duello fino all'ultimo e fino all'ultima gara a meno ripeto di un crollo della Rebel non lo so a meno di qualche penalità fatto sta che comunque nella gara abbiamo visto tanti sorpassi anche nelle retrovie abbiamo visto un Loso molto in forma Tsunoda che ancora non riesce a fare quel salto di maturità abbiamo visto anche molti molti track limits vabbè la direzione gara con le penalità molto 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 in confusione però però la cosa importante era vedere davvero un bel weekend perché questa è una stagione pazza è una stagione bellissima da seguire da Imola in poi questa è veramente la stagione più bella della Formula 1 dal 2021 a questa parte probabilmente per tutto ciò che stiamo vedendo e ripeto chi l'avrebbe ben detto in questa stagione tutti pensavamo a una Red Bull dominante con qualche vittoria della Ferrari ma poca roba invece ogni gara si ribaltano quasi i valori ogni gara vediamo delle gare bellissime e godiamocene perché non sarà sempre così perché potremmo vedere anche nei prossimi anni magari delle stagioni in cui un team domina mentre gli altri stanno tanto dietro quindi godiamoci questi momenti perché non sempre non sempre capitano parlando di vari piloti Leclerc un metronomo letteralmente un metronomo se nella sprint race non era magari stato molto furbo nella gara letteralmente dominato mai inquadrato dalla regia internazionale ha fatto il suo ritmo ha gestito le gomme in maniera perfetta davvero weekend magico per Charles weekend magico per Charles è andato benissimo anche Carlo Sainz come vi avrei raccontato in apertura del video Sainz è molto on fire molto on fire secondo posto meritatissimo secondo me secondo posto meritatissimo già nella sprint race aveva dimostrato tanto anche in qualifica era andato molto bene e in gara anche lui magari meno bene rispetto alla Clark ma anche Sainz ha dimostrato certamente di essere un ottimo pilota terzo posto per Verstappen massimizza i risultati in maniera incredibile in qualifica va tanto così dalla pole position vince la sprint race credo che questo possa bastare per descriverlo ha fatto quello che cioè ha fatto il massimo ha fatto letteralmente il massimo soprattutto se lo se lo paragoniamo a Sergio Perez che sembra sempre più lontano dalla Red Bull davvero pilota max pilota straordinario e forse per i risultati che sta ottenendo meriterebbe anche una macchina più performante poiché la Red Bull da luglio-agosto è calata non dico a picco ma è calata particolarmente quarto posto per Norris il discorso è sempre lo stesso puoi fare tutte le pole position che vuoi ma se poi non converti le pole in vittoria il mondiale non lo vinci in questo momento Norris è a 54 punti da Verstappen negli Stati Uniti è pur riuscito ad allungare Verstappen su Norris quindi 54 punti ora sono tanti poiché mancano 5 di aree e la Ferrari sta continuando a ottenere buoni risultati sicuramente e la Ferrari in questo momento è molto vicino a McLaren quindi per la Red Bull per Max se Sainz e Leclerc si mettono molto vicino a Norris e si mettono davanti è chiaro che il mondiale va sempre più verso Max in poche parole credo che la questione mondiale si chiuderà a Las Vegas sinceramente non ad Abu Dhabi poiché appunto il vantaggio è parecchio quinto posto per Piastri che è stato non dico sotto tono ma non è stato forse il Piastri migliore della stagione in qualifica prende una bella paga prende 6 decimi ad Austin ne prende se non ero 4 a Singapore può migliorare in alcuni aspetti ma è il secondo anno in Formula 1 criticarlo eccessivamente è da pazzi poteva fare forse un po' meglio anche nella qualifica per la sprint eliminato però in linea generale ci può anche stare ci può anche stare vediamo un po' in Messico cosa riusciva a fare Oscar cosa riusciva a fare ma essere quarto nel campionato pilota al secondo anno in Formula 1 è il risultato secondo me eccezionale complessivamente poi vabbè dipende dalla macchina eccetera eccetera sesto posto per Russell parte dalla pitlane conclude sesto nessuno se lo aspettava soprattutto perché la Mercedes in questo weekend era appunto semi-inguidabile in generale la Mercedes al posto di andare avanti sta andando indietro vettura veramente difficile da capire vettura imprevedibile in Mercedes ci stanno capendo poco e nulla l'unico periodo nel quale la Mercedes sembrava rinata è il periodo che andava da giugno fino a luglio-agosto però poi anche lì dal GP di Oland in poi aggiornamenti non azzeccati vettura difficile da guidare è chiaro che per Russell la situazione è tosta e secondo me la stagione di Russell è molto sottovalutata per gli risultati che sta ottenendo perché la vittoria in Austria era un miracolo poi perché è anche fortunato il Podia Baku in qualifica Russell spesso va meglio di Yusenital almeno nei risultati Russell davvero meriterebbe una macchina decisamente migliore per il suo Trento perché parliamo tutti di De Klerk giustamente ma Russell è da qualche anno che è in Formula 1 e non ha mai mai avuto una macchina prestazionale ovviamente paragonando la Red Bull eccetera eccetera settimo posto vabbè penso ormai incommentabile il prossimo anno probabilmente sarà sostituito da Liam Lawson che probabilmente salirà in Red Bull oppure Yukitsunoda vabbè Perez come vi dicevo prima incommentabile tante difficoltà eppure è arrivato dietro a Russell non capisco perché ancora sia in Formula 1 ottavo posto per Hulkenberg ancora una volta punti Hulkenberg davvero uno dei migliori piloti in questa stagione raramente ho visto un pilota di una scuderia come l'As fare così bene l'As ha una macchina senz'altro molto bilanciata l'As rispetto alla scorsa stagione ha registrato dei passi in avanti mostruosi questo è vero però se andiamo a paragonare Hulkenberg e il suo compagno di squadra Kevin Magnussen Hulkenberg ha davvero fatto tanto meglio ha davvero fatto tanto meglio nessuno ci aspettava un Hulkenberg così nella classifica pilota e anche ad Austin molto costante anzi forse poteva pure arrivare settimo per dire non lo posso per Liam Lawson eccezionale partiva dal fondo partiva se non erro dalla ventesima posizione ed è riuscito ad arrivare a punti dalla ventesima è arrivato in nona posizione poi la strategia è stata efficace la vettura era comunque discreta però è arrivato tra l'altro davanti a Sunoda e uno tra Lawson e Sunoda l'anno prossimo andrà in Red Bull andrà in Red Bull quindi queste gare saranno fondamentali per entrambi pilota che davvero è molto bravo molto talentuoso merita di correre in Formula 1 ed è giustissimo che abbia sostituito Ricciardo in questo ultimo terzo stagione decimo posto Franco Colapinto partendo dal fatto che Colapinto è un personaggio eccezionale perché davvero oltre che un pilota molto molto bravo ha i microfoni davvero non polemizza cerca sempre di trovare la battuta è davvero un personaggio che in Formula 1 merita di stare sia per l'uomo che è ma sia anche per come guida perché in generale Colapinto sta facendo meglio di Alexander Albon e anche qui chi l'avrebbe mai detto Colapinto sta mettendo tanta pressione al suo compagno di squadra Alexander Albon in generale anche qui un weekend molto solido anzi poteva fare pure il giro veloce ma gli era tolto Ocon all'ultimo giro e poteva portare a casa un altro punticino undicesimo posto perché Magnus è leggermente meglio in questo weekend ma in generale anche lì non capisco perché in questa stagione abbia corso in Formula 1 pilota che al posto di correre come dovrebbe commette continuo e scorrettezza almeno ad Austin non le ha commesse però se penso a Miami se penso a Monaco davvero Magnus è davvero il pilota che ha commesso più scorrettezza in questa stagione è onestamente un bene non vederlo più in Formula 1 al prossimo anno sarà sostituito da Berman dodicesimo posto per Grassley peccato peccato perché l'Alpine ad Austin andava forte e poteva tranquillamente finire in zona punti se non fosse stato per il p-stop in 6.3 e se non fosse stato per e se non fosse stato per per gli altri piloti davvero molto sfortunato Gasley continuò a dire che la stagione di Gasley in questo momento sia positiva davvero io credo che con il mezzo che Gasley stia facendo il massimo tanto rammarico perché l'Alpine andava bene andava bene ad Austin quindi poteva finire settimo ottavo senza troppi problemi dopo Gasley arriva arriva Fernando Alonso sul treguardo tredicesimo posto per Fernando Aston Martin in alto mare Alonso sta facendo quello che può sta facendo quello che può ma Aston Martin davvero in difficoltà seria e credo che ci vorranno anni per vedere la competitiva è chiaro che l'arrivo di Adre Nui dalla prossima stagione potrà portare solo che benefici però in generale davvero un anno fa erano erano in una posizione di vertice ora sono davvero una delle peggiori vetture da guidare quattordicesimo posto Yuki Tsunoda anche qui un po' scemo si può dire perché Tsunoda poteva tranquillamente arrivare a punti invece si è girato e ha perso tante posizioni si è girato più o meno verso la fine della gara e ha perso tante posizioni in linea generale però Tsunoda se vuole andare in Red Bull deve fare quel salto di maturità che ancora non l'ha fatto e a me Tsunoda come pilota non fa impazzire ne preferisco altri onestamente io in Red Bull in generale io in Red Bull nel prossimo anno se proprio devo scegliere tra Lawson e Tsunoda scelgo tutta la vita Lawson perché rispetto a Tsunoda è più maturo secondo me e poi tra l'altro Lawson non darebbe neanche fastidio a Max Verstappen e per questo anche Tsunoda nel prossimo anno non ce lo vedo il Red Bull 15esimo posto per la Stroll vabbè cosa vogliamo dire Stroll e Stroll lo sappiamo a Stron Martin nella vettura che è 6esimo posto per Albon soffre tantissimo la pressione di Colapinto tanto in difficoltà in queste ultime settimane in difficoltà in queste ultime settimane a me come pilota piace però non è quel pilota lì fenomenale non è un pilota da Ferrari Mercedes eccetera eccetera è quel pilota lì che ci sta a talento ma ma per dire Colapinto sta facendo meglio di lui e Colapinto in Formula 1 non aveva mai corso prima del Gran Premio d'Italia nel 2024 quindi questo deve far riflettere 17esimo posto per per Valti di Bottas vabbè da Stakef un team sappiamo quella che è 18esimo posto per Esteban Ocon che ha tolto il giro veloce a Franco Colapinto nell'ultimo giro di gara in generale Ocon in questa stagione lo vede un po' più appannato rispetto rispetto al passato nel prossimo anno non tra l'ass io credo che onestamente Ocon non sia molto motivato in questo momento non ho molto da dire onestamente non ho molto da dire il 19esimo posto per Guagliugiu cioè Guagliugiu volevo dire anche di Stakef un team macchina macchina che in questo momento non ha manco collezionato un punto nella classifica costruttori ed è un traguardo davvero molto molto significativo ovviamente in termini negativo mentre al 20esimo posto con lui Lewis Hamilton la mette in ghiaia in generale il peggior weekend di Hamilton in questa stagione queste erano un po' le considerazioni che volevo fare fatemi sapere se volete avete altri posto GP perché io ne farò ovviamente vi ricordo che non escono subito perché ho bisogno di tempo per registrarli ciao ragazzi ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.